Sei pronto, Sebastian? Ok, Hoffman. Facciamolo. Ok. Ti seguo. Devo azionarlo da qui. Sì. Dovrebbe proteggerci dal fuoco, ma non impedirà a quei mostri di attaccarci. Non temere, ci pensero io. O la va o la spacca. Funziona! Cerca solo di restare nel raggio d'azione. Andiamo! Non vedo niente con tutte queste fiamme. Tieni d'occhio coi mostri e seguimi. So la strada. Mi arriva uno. Ci penso io. Un altro. Guardati le spalle, Hoffman. Per quello ci sei tu. Bene. Sono dappertutto. Ho portato delle munizioni. Prendi! Prendi! A presto! quanto manca sembra più lunga ora che siamo in mezzo vuole tenerci fuori bene significa che ha paura non fermarti ci siamo quasi aspetta lo stabilizzatore a qualcosa che non va ci sto lavorando coprimi le spalle muoviamoci per poco te l'ho detto che era instabile ti stai già pentendo è la mia occasione per redimermi per quello che ho fatto a lili e a tutti gli altri che ho fatto entrare nello stamp perciò no non me ne petto no 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 Un altro problema! Aspetta! Fa presto, inizia a fare caldo! Un altro problema! Ora! Corri! Hofmann! ma via hoffman now Mi dispiace, Yukiko. Lo pagherà. Lo prometto. Alla fine, sono rimasto da solo, ma non riuscirà a fermarmi. Alla fine, sono rimasto da solo, ma non riuscirà a fermarmi. Alla fine, sono rimasto da solo. Alla fine, sono rimasto da solo, ma non riuscirà a fermarmi. Alla prossima Sì, ma questa volta è diverso Non te ne andrai Non ce l'hai Come l'ultima volta che hai cercato di salvare Dannazione, non mi entrerai nella testa Dannazione, non mi entrerai Dannazione, non mi entrerai 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 Grazie. 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 Una grande X rossa. Questa sì che è arte. Grazie. Grazie. inizio kidman sono io ti sento forte e chiaro sebastian mobius un nome l'unico indizio che avevo ogni pista portava un vicolo cieco e ora scopro che sono dappertutto nascosti in piena vista non capisco come ti ho detto puoi trovare la mobius solo se sono loro a volerlo esistono da molto tempo sanno ciò che fanno sapevamo che ci stavi cercando ti tenevamo d'occhio e ti abbiamo fermato ogni volta che ti avvicinavi troppo perché perché l'hanno fatto i leader vengono scelti la mobius non vuole essere un leader vuole degli schiavi è chiaro se controllano tutti i media i politici dovrebbero agire alla luce del sole si nascondono nell'ombra perché sanno che ciò che fanno è sbagliato se la gente scoprisse la verità vorrebbe distruggere la mobius forse ragione ma se qualcuno scoprisse la verità chi gli crederebbe già il modo migliore di nascondere un complotto è convincere la gente che non esiste kidman mi senti non hai mai la sensazione di non sapere più ciò che è reale la prima volta nello stemma e anche una volta uscite e quando ho cercato di spiegare tutti pensavano che fossi già se qualcuno mi avesse raccontato quello lo so sono nella mobius ed è stata dura riprende era come vivere in a volte mi senti per questo che non voglio più mi ritieniti fortunata essere a union è come avere un spero di uscire da qui senza spero solo che tu esca di lì punto non credo che si possa uscirne completamente sane di mente lo stem ti segna in un modo che nessuno può comprendere kidman si sebastian a cosa stai pensando a lili tutto tutti la vogliono come è l'unica vera vittima non sa nemmeno cosa significhi vivere una vita normale tutti questi anni con la mobius avranno distrutto la sua innocenza è ancora una bambina dolcissima lo spero le hanno rubato l'infanzia non è potuta andare a scuola avere degli amici tutti i compleanni e le feste che si è persa mi spezza il cuore pensare a tutto ciò che ha passato lili è sempre stata precoce sveglia intelligente aveva quel modo di guardarti si vedeva che ti capiva non solo ciò che dicevi ma anche ciò che provavi ho sempre saputo che era speciale ma pensavo che fosse solo perché era mia figlia lì è speciale è stata scelta per via dei suoi altissimi punteggi nei test standard continuo a parlare di lei al passato non mi sembra ancora vero che sia viva e che sia qui ma devi salvarla prima di poter ricostruire il vostro rapporto sono qui per aiutarti fammi sapere come posso esserti utile sono qui per aiutarti fammi sapere come posso esserti utile bentornato detective bambino c'è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.